ciao barbie family e bentornati sul canale c'è questa maglietta che è lunga allora prima di fare video saluti volevo dare due annunci un annuncio è il 30 aprile non perdetevi la finalissima del borne su facebook i love fashionistas quindi chi è scritto su facebook mi raccomando corra ad iscriversi sul canale sul gruppo e pagina così non si perde la diretta se non siete iscritti su facebook non vi preoccupate iscrivetevi al canale barbie e orso perché Enzo caricherà la finalissima anche lì così non ve la potete perdere quindi io oggi lancio due hashtag uno hashtag doll race e l'altro è l'hashtag uniti si gioca meglio quindi hashtag doll race e hashtag uniti si gioca meglio mi raccomando tutti nei commenti a scrivere gli hashtag l'altro è il 26 di maggio a milano al 25 26 vabbè dopo metto la locandina a fine video il 26 di maggio a milano al dolls and toys ci saremo anche noi dalle ore 14 con la famiglia fontana meh basta quindi ora possiamo e lì trovate anche il banchetto di Andrea mi stai spostando dove andiamo con la famiglia fontana andiamo al fiume qua davanti c'è un fiumiciatto lo ti butti dentro è un pozzo è un pozzo e vari nuoti quella famiglia fontana dove andiamo? non lo so dove andiamo non lo so quindi ora passiamo ai saluti allora iniziamo a salutare allora tu mi hai così? io faccio così e mamma saluta allora salutiamo iniziamo con Gaetano Trotta e il tuo nipote Anna Paola un bacione e Gaetano è in finalissima al doll race con Adeline bellissime foto veramente sei veramente bella ciao mamma ciao Alessia poi salutiamo Pacchito Magico Collezionismo ciao ciao Pacchito e iscrivetevi al suo canale è bellissimo iscrivetevi barbie e orso ciao Enzo Enzo Funaro un bacione iscrivetevi anche al suo di canale ciao Enzo così non perdete il ball race anche perché poi questa edizione è finita poi gli occhi di barbie Enzo ne inizieranno altre edizioni dove noi candideremo ancora Giada ovvio Giada sarà sempre la candidata ah tu vuoi candidare Nicole? mh ops vabbè possiamo candidare due poi sarà Enzo a decidere ma si vede? chi passerà le selezioni poi ma perché mi spingi? mi vede? al prossimo doll race ma perché mi devi spingere davanti? poi video storie di plastica ciao ciao Sergio ciao Sergio iscrivetevi anche al suo di canale video storie di plastica molto molto bello molto simpatico video e foro cavacca video simpatici e fa ridere e poi salutiamo le core barbie anche se non ce l'hanno chiesto però io ho voglia di salutarle ragazzi ciao iscrivetevi anche al loro canale anche se sarete già iscritti perché vabbè ovvio ormai sono secolari loro però vabbè io lo dico lo stesso poi salutiamo Rossi Abramo con la sua amata Cindy ciao ciao Rossi un bacione a Cindy poi salutiamo Francesco Castaldi e Giorgio Simeoni ciao ciao Franci ciao ciao Giorgio ciao Franci e poi insieme a loro perché è ovvio che salutiamo anche la loro amata Alissa Muller con Chris mazza Chris oh mazza Teo ma arriva Chris e lei cioè io parlo di Chris e Alissa vedi e lei arriva con un pezzo di cioccolato perché mi addolcisce perché mi addolcisce e lo mangio dopo ho mangiato troppo cioccolato poi mi saltano i brufoli ciao Alissa cara spero un giorno di incontrarti insieme a Chris mamma mia anch'io poi salutiamo Sara e la sua bimba Gioia ciao ciao e poi andiamo avanti aspettate che mi sto perdendo ok Melissa ok tu fai così io faccio così Angelica ciao Simona Verdecchia ciao ciao Thea Monchilova ciao spero di averlo detto giusto e di dirgli giusti cognomi a volte i nomi perché sono Rainbow Barbie ciao Deborah Spinelli Linda Grosso Alessandra Sottile ciao Mary ciao Yoku Alessia Mary ha proprio scritto che voleva essere salutata da te proprio esplicitamente Mary Mary sì ciao Mary bacione no Arianna ciao ciao ho anche i capelli davanti Rosa Zakame ciao jessica muratore ciao adesso noi abbiamo la finestra aperta mo' passa qualcuno ciao e basta salutare qua ma chi cavolo state salutando ciao ci salutiamo vicenda ciao 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 e basta aspettate ok ok non di te che caghetta Monica Ciraulo ciao Sofia Bologna ciao Stefano Serea ciao Fabienne Cavalera ciao ciao Lucrezia De Lucci ciao ciao Liliana Alberti ciao 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 Martino Urbano ciao ciao Laura Camerata ciao ciao Rainbow Barbie ciao 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 sei doppiona ma ciao dettagli ciao ehm vabbè Rainbow Barbie ha fatto una domanda per Stefano che farà dopo Gacha Life ciao anche ha una domanda per Stefano Nicole no ma sta coppia oh ciao questa coppia è amata sì perché ridi niente ahahah 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 Ilaria Super ciao ciao Claudia principessa sirena Ciao Barbie I love Ciao Michelle Speranza Ciao Giada Speranza Ciao Giulia Carpinacci Ciao Mamma mia ma che è un cantile Ciao Franco Yes 1 Ciao Ma cambiamo il ciao Ciavelle La Jessica Gamer Briganti Ciao Lila Cavaliere Ciao Valeria Tinebra Ciao Beatrice Ciao Viviana Ciao Ciao Viviana Ciao Viviana Vai Ciao Viviana Vai Poi Giulia Mattei Ciao Ciao Chede Stella Ciao Kevin Kevin X93TV Ciao Ciao Non finire Si chiama Nicole Ciao Ciao Matti Bertucci Ciao Nicole Datomo Ciao Mediarta Carpano Mi sta a perdere Ciao Martina Braccioni Ciao Alessia Life Ciao Chiari Diana Ciao Sirea Edizion Ciao Ciao Mi sono persa Qua 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 Vanessa Vendizioni Ciao Sirea Edizion Sirea Edizion Sirea Edizion Francesca De Santis Sirea Edizion Alessia Dolce Unicorno Sirea Edizion Sirea Edizion Vabbè Ho 12 video Invece la mia amica viola Ha 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 Non lo so Senta Poi per ultimo Dove è Alessia Dolce Unicorno Non c'è scritto Non c'è scritto Fa niente Ah A caso A caso Jessica Muratore L'abbiamo detto Si Monica Ci ha uno Si Sirea Edizion Si Alessia Edizion Si Alessia Dolce Unicorno Al mio canale Quindi andatevi Iscrivete Poi Ci salutiamo Anche Laura Pausini Ciao Con tutti i pavesini Ciao E Marco Che sei andato via E non ritorna più Ciao Poi volevo dire Di chiamare La stazione dei treni Per vedere se Marco è rientrato Perché è dalle sette e mezza Che è sul treno Ciao Ciao Oraccio Marco Ciao Ha preso il treno Delle sette e trenta Oh E la pausina Ancora che lo cerca Boh Vabbè Ora passiamo Ehm Ehm Preparo la famiglia Fontana Sta facendo Sta guardando il pavimento Stefano Ehm Guardalo 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 Ma cosa c'è per terra Allora Non lo so Allora Qui non vuole essere salutato nessuno Ah si Stefano Nicole Francesca De Santis Dov'è sto Dov'è sto Prendendo il cuore Ah C'è tu Oh ciao Ciao Francesca ciao Ma cosa fai Stai guardando il pavimento Poi Oh Oh Dobbiamo salutare Rainbow Barbie Pure Oh Rainbow Barbie Ciao Ciao Allora Nelle domande le faremo a fine video Poi salutiamo Facciamo che salutano prima loro E poi se ne vanno Poi Ma se facciamo come sempre Che Ah tutti insieme Tutti insieme Dai se no diventa Ok Prima tutti la famiglia No noi abbiamo già salutato No Si Allora facciamo famiglia Fontana Facciamo salutare da tutti Eh Quelli della famiglia Fontana Ok Penny Kawai Ciao 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 Martina Urbano Ciao Martina Oh Do stai Don te vedo Ciao Oh ciao Laura Camarata Ciao Ciao Ragazza Ciao Laura Ciao 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 Poi Gasha Life Stefano e Nicole Oh Gasha Ciao Anche lei ha una domanda Oh 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 Cosa succede? Oh Cosa Stefano Stefano Ma cosa fanno? Sì Oddio Buola Salve Stefano Claudia Principessa Sirena Stefano e Nicole Oh Ciao 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 Claudia Non è Ma guarda che si mette davanti Oh E si mette davanti perché è gelosa eh ragazza Mica peraltro Eh no Non vedi che siamo sotto braccetto Andiamo via dai Diego Diego e Stefano dopo Nicole dopo Giada Speranza Eh ma è caduto quel culo qua dietro Oddio È svenuta È svenuta Benedica Giada Speranza Ciao Ciao Giada Ciao Giada Ciao Giada Ciao Ti chiami come me Giada Oddio che Che bello Puzza mia Cosa vuoi tu? Ciao Ma no ma no Ciao Ehi ciao Ciao Ehi Ciao Avete visto il mio berretto verde? È bellissimo eh Visiera Si chiama Visiera È un berretto Ah ma Non è che dove sei Il sombello Guarda che Non Ti vedevano prima eh No ma non è vero Ciao Diego Alza la faccia Ma che cosa c'è? Oh Me ne vado Che roba Che roba Poi Salutiamo Mamma Franco No Cade davanti Riccardo Così non cade più in dirci Franco Yes Uno Ciao 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 Io sono qui su Su Qui su Qui su Qui su Qui giù E su Anche io sono qui Eh 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 Oddio che casino Ah si Ah si Eh Eh La famiglia Tutta la famiglia Angelica Ciao 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 Simona Simona Verdecchia Ciao Aiuto Ah volevo dir Che Simona Eh Il 21 aprile La Pasqua Era il suo compleanno Auguri Simona Si chiama come te Si chiama come te Sta cadendo i colli Allora Su Ma state in piedi Allora Tea Monkilova Ciao Ciao È zitto Diego È zitto Sì È qui È zitto Sì È caduto qualcuno Oggi Ma cos'è Oddio No Andiamo Ciao Ciao Io però Volevo Volevo salutare Pachito Perché è un mio fan Ciao Ciao Non è tu Sono dietro le tre Le tue code Le tue code Nella mia bocca Ehi Ma ciao Oh Ti togli Togliti Perché Ma perché Perché voglio Voglio la popolarità Oltre che A scuola qui Grazie Ciao Ehi Sono dietro Cosa lì Dietro È tutta colpa tua Allora Tu che non sai fare un combo Che ci metti Trone a staccare una testa E Andrea ci mette In mezzo AIA 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 Il mio capello Oh Oh no Che schifo Dai Che era il mio primo appuntamento Ho indossato quello Non ci sta a me Dai Metti Metti sto cappello Ma lo sai che dopo Abbiamo delle domande Da rispondere Anche se sto cadendo E sono Sto cadendo Sono sempre di più cadendo Lucrezia De Lucci Ciao 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 Scusate C'è un piccolo Comblemino Qua Ma che è caduto lì Ciao 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 Ho poi il capello storto Però vabbè Guarda Stefano con i ciuffi Cos'ha fatto guerra Giada Giada Adesso Adesso Noi salutiamo Melissa Ciao Melissa Melissa Dove è Melissa Melissa sta là dentro Ciao Melissa Io da sola Ciao No aspetta E Un attimo Io saluto Ciao E Comeunque Grazie Non ti volevo a te Oh Eh ma comunque Faccio parte io No no Melissa ha detto no Oh faccio parte del quadrino No tu sei No non fai parte del quadrino Ehi Ehi Spostati Via Via Ecco Incomodo Comodo Via Allora io saluto Arianna Ma si stava Salutando Melissa Tu saluta Melissa Io già ho salutato Melissa Ciao Melissa Ciao Melissa Ciao Arianna Monica Do sta Diego Ah sei qua Diego Ciao 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 Monica Io Io e Diego Jessica Jessica Tu e Diego Allora io vado via Ciao Ciao Jessica Ciao Sono sfocato Sono un po' sfocato No sono sfocato Eh vabbè Cosa dobbiamo fare Oh Eh Oh Barbie I love Tu vai sempre via È caduto È caduto Riccardo Oh Oh Cosa Barbie I love Ciao Ma no te vuole a te Via Non ti ho chiesto niente di te Via Basta Andiamo via Andiamo via Andiamo Non mi chiusi niente di questo Sono a posto con i capelli Oh ciao Noi Rainbow Barbie Stay Gacha Life Ciao Claudia Principessa Sirena Aspetta devo riacchistare la mia voce Ciao Non è la mia voce Però non mi fa niente Ciao È la mia voce No è la voce del vicino Ciao Tu devi salutare Michelle Speranza Ciao Michelle Poi Aspetta Che fammi cercare E basta No sì Sofia Bologna Però ci vuole Yuri e Melissa pure Ah Yuri Melissa Ah 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 Yuri Melissa Però intanto Salutiamo Francesca De Sanze Ok No Ciao Ciao Francesca Ciao Sanci Hopla Eccomi qui Aspetta Aspetta Visto che aveva chiesto qualcuno di me Ignorante Eh ma qualcuno me l'ha chiesto Eh Comunque Sofia Bologna Ciao Sofia Ciao Ho un po' il cappello storto Presoro Me lo metti a posto Si va bene Ma si va bene Ecco qua Me lo metti a posto Non me lo togli Vabbè sei bello così no No io sono brutto senza capello Non è vero Allora vabbè Oh e basta Eh non è stavente Sono bello io Sono il più bello del mondo Altro che Stefano Ma sposta Ma chi Stefano Magri via S.O.S. Fan Dove stanno La telecamera non è lì Oh scusate Però c'ha ragione Sei un ignorante Basta me ne vado A ridire Ciao Ciao Ah no le domande Vabbè Ciao Vabbè Ciao Chi è che dovevo salutare Scusate Ormai abbiamo salutato Abbassiamo Ok ci sono le domande Ma mia mamma ti è a posto Aspetta Ok è a posto Ok è a posto Sarà di mezz'ora questo video lo sai Eh che ci posso andare Allora Rainbow Barbie dice a Stefano Oh perché proprio a me E che vuoi da me Non so Avete la stessa voce Incredibile Oh ma Ma perché Ma che incredibile Ma guarda te Eh Dai Ok Oh siamo vestiti Dallo stesso colore Vabbè basta Ma che pizza che sei un po' Che aspetto Dai Sono testimone tutti Anche io sono testimone E io sono testimone 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 Allora Rainbow Barbie Che fa una domanda a Stefano Stefano avevi detto Che quando Nicola avrebbe fatto 18 anni Il giorno stesso L'avresti sposata Manterrai la parola Io ancora non ho 18 anni Io ho 16 anni Io sia Mantenga la parola Sì Au che c'è Au ciao Sì Sì Che vuoi Che c'è Ma parla almeno Sta zitto questo Come un cozzo Se ti permetti a ferire Nicole Ti ferisco io E so come farlo So dove vivi Ti vengo a prendere Ti spacco il culo E certo Vivo a casa tua Sai certo che sai dove vivo E ti spacco il culo Oh delicato tu madre Comunque Delicato Oh C'hai purecchie d'elefante pure Ci sei più bene Vabbè basta La visiera Visiera Cappelliera Comunque Dai andiamo avanti Quando avrà 18 anni Ho 16 anni Hai 16 anni Ancora piccola sei Io ho ancora 2 anni Devo aspettare Ma non si possono anticipare No 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 Oddio qualcosa No Vabbè andiamo avanti Allora Gacha Life Chiede A Stefano e Nicole Quanti figli vorreste E come li chiami Girati Ma c'è sempre il bufo dietro Senti hai nostre soli domande Non sono le tue Ecco infatti Quanti figli vogliamo Ma 3 4 5 No Va bene Tipo la squadra di calcio Sì la carica di 101 Eh bello Bello No vabbò 2 Dai dai Famo 2 Dai Ti sto ascoltando Come chiamiamolo Beh Io chiamo Sei femmina Come lo chiamiamo Aspetta Fammi ci pensare Alissa Alissa Non così Tu sui due piedi Non so cosa Alissa E Chris No dopo copiamo troppo Gatti che non è stata Non si copia Hashtag Non si copia Eh Scelgo io i nomi Eh Dieggino Junior Sì 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 Ti vedo Pensi che non ti veda Ti vedo Ti tiro un pugno Perché sono il migliore Sono il primo della famiglia Ah sì Oh Non è ancora Non sta di sera Oh Bene Le domande sono finite Possiamo concludere il video Noi vi salutiamo E vi diamo appuntamento Al prossimo video E mi raccomando Continuate a seguirci Cosa fai Stefano Cosa c'è Cosa fai Quanti problemi hai Che ti affliggono in quella mente Non lo so Continuate Continuate a scrivermi Attivare la campanella E mori Il tuo video Dopo i 100.000 Scelgo Dovete fare La challenge Tu Ci devi colorare Tutto Quardi rosa Tutti i cavalli E si muore In viola Continuate a scrivermi Stefano Stefano Andiamo Sì sì Andiamo